Sette partite, 21 punti, un quarto posto da difendere. È la realtà che la Fidelis Andrea può guardare negli occhi nel girone H di Serie D dopo le sei partite giocate tra mercoledì e domenica scorsi, recuperi fissati dalla Lega Nazionale di Lettanti per garantire il riallineamento dei calendari in vista dell'ultimo mese e mezzo di regular season. Davanti alla Fidelis ora ci sono Taranto, Picerno e Casarano, ma a differenza di sette giorni fa il quarto posto non è più in bilico per la matematica. È stato evitato infatti il sorpasso da parte dell'Avello, fermato mercoledì a Venosa dalla team Altamura. Proprio la squadra di Monticciolo, unitamente al Nardò, era quella che aveva più gare da recuperare, quattro, una cifra dimezzata in altre tanti giorni che hanno portato Salentini e Murgiani a stare appagliati in settima posizione a 40 punti, meno sei dalla Fidelis. Tanto sull'identità delle inseguitrici per i play-off lo dirà mercoledì il recupero del Città degli Ulevi tra Bitonto e Altamura, con i Neroverdi oggi a 41 punti e con una sola gara ancora da recuperare. Per la prima volta dopo tante settimane allora la Fidelis, considerando anche le conseguenze numeriche dei recuperi in programma tra mercoledì 28 e mercoledì 5 maggio e nei play-off. Una posizione che il team di Gigi Panarelli potrà difendere e tutelare, forte di una difesa solida, 16 gol subiti in 27 partite giocate, e di una squadra che nelle ultime quattro gare è stata in grado di mettere insieme 10 punti. A sorridere al termine della prima tranche di recuperi è stato il Taranto che scenderà in campo mercoledì contro la Versa, con la possibilità di portarsi a più otto a parità di partite giocate sul più diretto inseguitore, oggi il Picerno. Proprio la capolista del torneo sarà la prima avversaria del team di Panarelli, uno dei tanti ex della partita, nel rettilineo finale. Si riparte domenica 2 maggio al Degli Olivi, con vista sul 13 giugno, data di termine della stagione, e sui play-off.